Tutto ciò che desideri si è già manifestato. Tutto quello che puoi sperimentare nella tua vita, lo puoi sperimentare solo ed esclusivamente dentro di te. Ok, ti faccio una domanda. Quando ami qualcuno, dove trovi quel sentimento? Dentro te stesso, non all'esterno, non esiste fuori, non puoi né cercarlo, né trovarlo, né afferrarlo fuori. L'amore vive dentro di te, lo trovi lì. Senza di te, quell'amore dove sarebbe? Non potrebbe proprio esistere. Provi piacere nello svolgere una qualsiasi attività, nel vederti in un certo modo? Ok, ti assicuro che il fine è sempre lo stesso, ovvero quello che provi. E quello che provi è sempre e solo dentro di te. Adesso chiudi gli occhi e pensa a quello che vuoi sperimentare. Immergeti completamente nella scena, visualizzandone tutti i dettagli. Se non riesci a visualizzare, allora percepisci ciò che ti sta intorno. In questa dimensione puoi dire e fare assolutamente ciò che vuoi e ricevere ciò che desideri nel modo in cui lo desideri. Il tuo cuore inizierà a provare emozioni elevate. Percepirai un senso di pienezza, ti sentirai appagato, semplicemente bene. Perfetto, siamo arrivati al punto. Normalmente, quando senti di voler provare o sperimentare qualcosa, automaticamente percepisci un senso di mancanza proprio perché non stai vivendo in quel tipo di situazione. Ricorda invece che puoi viverlo esattamente come vuoi tu dentro di te. La realtà è che è così sempre. L'amore, la gioia, l'appagamento sono dentro di te e non fuori e sono sempre, sempre, sempre a tua completa disposizione. Entra in questo stato e non ti sentirai più perso, abbandonato o triste e quasi magicamente tutto ciò si materializzerà nella tua realtà esterna. E ricorda che il desiderio manifesta altro desiderio, mentre il tuo stato interiore manifesta la tua realtà. Grazie per aver visto questo video e se in questo momento ti è stato d'aiuto, metti mi piace e seguimi. Grazie, grazie, grazie!